Un giorno Renatino mi chiamò e mi disse, procura un passaporto di una giovane di Venezia, mi serve subito. Scoprì solo dopo qualche tempo che quel documento era destinato a Emanuela Orlandi. A raccontare questa incredibile storia è Vincenzo Pipino, conosciuto come il Veneziano o il Ladro Gentiluomo, un uomo che è diventato famoso per i suoi furti di ingenti quantità di oro, diamanti, pietre preziose e opere d'arte. Oggi, all'età di 81 anni, Pipino ha concluso di scontare le sue pene ed è in pensione. È ben noto a Venezia e oltre, dove lo conoscono tutti. Nato alla Giudecca, primo di cinque fratelli, in una famiglia molto povera la madre casalinga e il padre capitano di traghetti Pipino ha vissuto fin da giovane una serie di eventi che segnarono profondamente la sua vita. A soli sei anni, infatti, fu espulso dalla scuola elementare per aver rubato un torsolo di mela a un compagno di classe. Un episodio che lo traumatizzò. Con il passare degli anni, Pipino acquisì la reputazione di il Ladro Gentiluomo per non aver mai fatto uso di armi durante i suoi furti, nemmeno di un taglierino. È stato il ladro che ha messo a segno oltre 3.000 colpi, passando da furti di poco valore, come il latte quando era bambino, a quelli di gioielli e lingotti d'oro, fino ad arrivare al furto di importanti opere d'arte. Tra queste, il celebre dipinto del Canaletto, il Fonteghetto della Farina, rubato da Palazzo Giustiniani a Venezia e poi restituito con la promessa, mai mantenuta, di essere donato al Museo di Venezia. Fu tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80 che Vincenzo Pipino incontrò Enrico De Pedis, detto Renatino, il capo della banda della Magliana, che aveva fatto il suo esordio nel crimine con il sequestro del duca Massimiliano Grazioli Lante della Rovere, un sequestro finito tragicamente con la morte dell'ostaggio. In quegli anni Pipino viveva a Roma, dove aveva una casa in affitto, e incontrò a Renatino per la prima volta nell'autosalone Eurocar di proprietà di Enrico Nicoletti, considerato il cassiere della banda. Il salone si trovava a lungo la via Casilina. Pipino racconta, con Obby De Pedis in quel salone, io ero già amico di Sabrina Minardi, la sua amante, con la quale facevo ogni tanto alcuni piccoli affari. La Minardi gli chiedeva spesso di procurare documenti falsi per conto della banda della Magliana. Un giorno Pipino ricevette una chiamata proprio da Renatino, che gli chiese un favore. Mi disse che avrebbe pagato bene per un documento specifico, un passaporto di una giovane ragazza di Venezia, e lo voleva subito. Pipino promise di procurarglielo in breve tempo e mantenne la promessa. Quando trovai il passaporto richiesto, avvertì Sabrina che avevo il documento e aspettavo indicazioni per consegnarlo a Renatino. Fu invece lui a venire a trovarmi per consegnarmi una busta. Dentro c'era una fotografia di una ragazza che avrei dovuto dare al testone, racconta Pipino. Il testone era un maresciallo dei carabinieri che lavorava spesso per conto dei servizi segreti. Fu lui a preparare il passaporto richiesto da Renatino. Questa rivelazione aggiunge un ulteriore tassello al mistero che circonda la scomparsa di Emanuela Orlandi, suggerendo che il passaporto che Pipino procurò fosse parte di un piano ben più ampio. Solo qualche tempo più tardi, durante un incontro di lavoro con il testone, Pipino venne a conoscenza di una notizia sconvolgente. Fu proprio il testone a spiegarmi che la ragazza nella fototessera, quella che gli avevo lasciato per modificare il passaporto, era Emanuela Orlandi. In quel momento mi resi conto che la banda della Magliana avrebbe potuto avere un ruolo nel suo sequestro, ma mi sbagliavo. Infatti, Pipino scoprì da alcuni membri della banda criminale che Emanuela Orlandi non era stata rapita. Ascoltando anche ciò che raccontava Sabrina Minardi, capii che la ragazza si trovava a Perugia, a casa della sorella di Sabrina, in un appartamento che avevano preso in affitto per incontrare uomini. Mi dissero anche, afferma Pipino, che il passaporto che avevo procurato sarebbe servito per trasferire Emanuela a Londra, ma non mi dissero altro. Da quel momento in poi, Vincenzo Pipino non ebbe più notizie sul caso e non chiese più nulla né a Renatino né a Sabrina Minardi. Nel 1992, mentre si trovava in detenzione nel carcere di Regina Celi, Pipino incontrò Arnaldo Labarbera, un ex capo della polizia che aveva lavorato alla mobile di Venezia negli anni 70. I due si conoscevano bene. Pipino racconta Gli spiegai tutto quello che avevo saputo su Emanuela Orlandi, incluso il falso passaporto che avevo procurato per conto di Renatino. Ma per quanto ho verbalizzato, non sono mai stato chiamato a testimoniare. Nessuno ha dato seguito alle mie parole. Ora, con l'indagine in corso in procura e una commissione d'inchiesta in Parlamento, forse la storia di Pipino potrebbe suscitare l'interesse di qualcuno. La domanda è, sarà finalmente ascoltato?